Sindaco, 100 giorni del suo mandato da sindaco di Galatina, qual è stato l'obiettivo più importante che ha raggiunto e cosa ha ancora in cantiere? 100 giorni, vero, sono passati da poco. Da subito c'è stata una grande empatia con la macchina amministrativa. Ho trovato tanti collaboratori comunali estremamente efficienti, ma che sin da subito hanno dato la loro disponibilità ad esserlo ancora di più. In questa direzione abbiamo fatto i nostri primi interventi, siamo riusciti a smaltire un arretrato che giaceva in quanto a pratiche, soprattutto edilizie, negli uffici tecnici da diversi anni. Abbiamo azzerato questo arretrato che pesava da lontano 2019 sui nostri uffici e siamo arrivati adesso a lavorare pratiche che vengono presentate a settembre. Quindi questo sicuramente è stato un punto di partenza importante perché quegli uffici, l'ufficio tecnico, è il cuore pulsante di ogni attività amministrativa. E quindi rendendolo efficace ed efficiente si liberano immediatamente risorse. Infatti immediatamente il Comune ha potuto incassare oltre 170 mila euro, come primo risultato, dovuto proprio a questa accelerata sull'efficientamento della macchina amministrativa che ha prodotto un incasso assolutamente non trascurabile per il nostro Comune. Grazie!